La prima è di non rinunciare ai vostri sogni, perché voi vi meritate tutto quello che sognate. Noi delle famiglie Arcobaleno abbiamo sognato di diventare genitori e di crescere i nostri figli nella verità e nella trasparenza. Se questo è il vostro sogno sappiate che si può fare. La seconda cosa che vi voglio dire è che dovete però prendere le vostre responsabilità. Il Pride non è solo oggi, è ogni giorno delle nostre vite. E se non siate responsabili di voi stessi ogni giorno i sogni non si realizzano, allora sognate e fate in grande. Ciao! Grazie! 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 Grazie!